Come nasce questa passione per il gioco degli scacchi? Mi è nata all'età di otto anni, quando un giorno mia madre tirò fuori in una scacchiera dove c'erano sia gli scacchi che la dama e lei voleva insegnarmi a giocare a dama. Però vedendo i pet degli scacchi mi piacevano di più e quindi mi hanno insegnato a giocare a scacchi. Quanti anni avevi? Otto. E adesso quanti ne hai? Un anno è quattordici. E sei veramente diventato forte perché sei arrivato anche alle nazionali. Sì, sono arrivato alle nazionali e sono arrivato sesto quest'anno e il mio risultato è stato arrivare quinto. E che cosa vorresti fare da grande? Ti piacerebbe giocare a scacchi da professionista? Mi piacerebbe molto diventare professionista, anche se so che è molto difficile, ci sono giocatori molto forti, ma sarebbe davvero un sogno. Qui che cosa succede oggi? Oggi faccio una simultanea, ovvero gioco da solo contro 20 persone in 20 diverse scacchie. Ci sono tanti ragazzi come te che amano giocare a scacchi qui a Sarzana? Qui a Sarzana diciamo una decina e in Italia della mia età, ovvero da 14 anni, ce ne sono più di 500. C'è una cosa carina che mi raccontavi prima, in piazza Calantrine a Sarzana c'è un gruppo di persone che gioca a scacchi e anche da lì è nata la passione. Sì, c'era un gruppo di persone che in un tavolo giocava a scacchi e un giorno li vidi insieme a mia madre e in curiosito andrei a vedere e piano piano iniziai anche a giocare. Ma vincevi? All'inizio no, adesso li batto così tutti. All'inizio no, adesso li batto così.